La lingua italiana Ma invece su una conoscenza della lingua inglese Diciamo salve a tutti innanzitutto Non mi conoscete sicuramente Sono un neolaureato Perdonatemi l'emozione perché comunque Mi trovo in mezzo a gente di un certo calibro E dico la mia ma nel mio piccolo Però vorrei cercare di essere incisivo Perché credo che sia interessante come spunto Quello che posso dire Io in quanto neolaureato In quanto giovane In quanto ragazzo della strada Vi porto uno spaccato di quello che è L'atteggiamento dei ragazzi della mia età Verso la questione linguistica Ragazzi che si suppone comunque Abbiano una certa coscienza Quanto meno perché istruiti Allora il professor Arcangeli Giustamente prima ha detto Che non è l'uso di un singolo termine inglese In più o in meno Che può fare la differenza Il fatto è La massa complessiva Dei termini inglesi che stiamo usando E soprattutto Da dove arriva questa Qual è la posizione del parlante In questa situazione Di Diciamo Qui finora si è parlato Di una sostituzione secca e diretta Dell'inglese all'italiano C'è però anche un altro tipo di Colonialismo Erosione linguistica Come la vogliamo chiamare Che è l'uso progressivo E crescente di termini inglesi Nella lingua italiana Ma Non Fine a se stesso Ma Uso di termini inglesi Che hanno un portato percepito Come di innovazione Un portato di Contenuto superiore All'italiano La control room Di cui parlava Il professor Arcangeli Non è percepita come una Banale Detto giustamente Portineria Perché l'italiano è percepito come banale L'inglese è il futuro Ma Voglio dire Che italiano stiamo salvando Se salviamo un italiano Che non è più in grado Di generare In misura consistente Qualcosa di nuovo Se Le uniche parole nuove che otteniamo Sono bamboccioni Sono Parole che vanno bene per la cronaca rosa Per i pettegolezzi Non voglio dire gossip Ma Non abbiamo un italiano incisivo Potente Tecnico Un italiano che si sappia affermare Come lingua Come Stanno provando Con tutte le difficoltà del caso A fare lingue come il francese Come lo spagnolo Io sono un ex Erasmus Sono stato in Spagna E l'ho visto con i miei occhi Pur Nella mia soggettività Per farlo breve I giovani Mi Permetto di affermare Tendono a dividersi In questo campo In anglo entusiasti E anglo esclusi Questo è una L'uso dell'inglesorum Questo è il nome che abbiamo voluto dare A questo tipo di infiltrazione Della lingua inglese nell'italiano Crea una discriminazione Una discriminazione Ed è un attentato in un certo senso Alla democrazia linguistica Perché lo stesso caso Di locatario Locatario Locatore Si poteva verificare Con spending review Si crea Una sorta di Differenziazione Tra chi queste parole Questi innesti Li può capire E chi no E chi non li può capire Rimane escluso E Non solo rimane escluso Ma dice Accidenti Sono rimasto escluso Sono indietro Allora via A inserirmi anch'io Corsi di inglese Imparo l'inglese Nuovi concetti Entrano solo in inglese L'italiano È orientato al passato Come è stato detto prima Cioè Non è vero Che questa è solo La punta dell'iceberg Ma non sottovalutiamo Che questo concorre A creare un'immagine Dell'italiano Come limitato Come perdente O comunque Nella migliore delle ipotesi Da pacca sulla spalla Scusatemi l'espressione Da parlato Allora Io sono un neolaureato In economia e politiche pubbliche Non mi permetto Di sconfinare nella linguistica Non mi permetto Di sconfinare nella politica Semplicemente perché Devo imparare Prima di parlare Detto questo Muovendomi nel mio ambito Stretto di politiche pubbliche Io faccio presente una cosa Abbiamo mai considerato Quale strumento Di politica linguistica Può essere Il settore pubblico Avete mai considerato Qual è il potenziale Comunicativo Della macchina dello Stato Io qui definisco Macchina dello Stato In questo convegno Perché mi capiate Come complesso Di tutte le strutture E le attività A cui è affidata Una qualsiasi funzione pubblica A tutti i livelli Quindi parlo Delle reti Radiotelevisive Parlo Diciamo Degli apparati Burocratici Parlo di una serie Di Così Enti Che non sto neanche Qui a elencare Però per farla breve Questi enti Hanno un impatto Comunicativo Talmente grande Sulla lingua italiana Che sono in grado Anche di Influenzarne L'utilizzo E uno dice Ma perché? Perché lo dobbiamo fare? Bisogna lasciare la lingua libera Ora io vi dico E mi avvio già Verso la conclusione Che In questa situazione La lingua Non è libera Se lo Stato Non interviene Lascia una situazione Sbilanciata Nella quale I media Privati I pubblicitari Decidono In parte Le sorti della lingua Perché non mi si venga a dire Che quando io sento Un termine inglese Che non conosco Ma che mi viene ripetuto Bombardato Messo da tutte le parti Fiori Fiorellini Fulmini Modernità Io alla fine Lo acquisisco Ora io non voglio dire Che una debba combattere Sulle singole parole Però consideriamo Il fatto Che Il Dico così Perché lo ha detto la tv Non è necessariamente Solo un Come dire Un male È normale Le persone Tendono a parlare Cercando termini Da canali ufficiali Cercando termini Che diano prestigio Al discorso Perché vengono detti Da enti Di prestigio Ora Usiamo Il canale pubblico Usiamo la macchina pubblica Attribuendo poteri Di normazione linguistica A un ente centrale E non sto parlando di cose fuori dalla democrazia La stessa cosa avviene in Spagna E in Francia E non mi dilungo oltre Perché chiunque può Fare ricerche su questo Io dico solo questo Non vergogniamoci Di Togliere la maschera E dire Sì Lo Stato si impegna anche sul fronte linguistico Sì Lo Stato fa proposte Sì Lo Stato agisce Per Tutelare Ma anche per promuovere E sviluppare la lingua italiana Non sottovalutiamo la potenza di questo mezzo Vi ringrazio per l'attenzione Grazie